Lotta tra la vita e la morte un 87enne che questa mattina intorno alle 9.30 è stato vittima di un incidente stradale in Viale Galileo Galilei. L'anziano è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, non è chiaro se in sella la bicicletta o trasportando la mano. L'uomo precipitato a terra ha riportato ferite gravissime, benché l'auto che lo ha investito, guidata da una sessantenne, non andasse ad alta velocità. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo. L'anziano, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice di massima gravità al Santa Maria delle Croci.